Oggi è un giorno importante perché finalmente abbiamo tempo. Qui in Costa Rica abbiamo tre mesi da spendere nel paese, in un paese piccolino che già in due settimane abbiamo visto in maniera intensa perché abbiamo fatto tantissime cose e quindi possiamo respirare e possiamo dedicarci a tante cose che avevamo, diciamo, messo un pochettino da parte in sospeso. Una delle tante cose è la Canon. Infatti abbiamo cercato di continuarla a utilizzare anche se si era rotta in parte. Adesso però possiamo finalmente portarla a giustare. Abbiamo trovato un negozio specializzato per le Canon. Ci siamo arrivati proprio in questo momento e andiamo a vedere cosa ci dicono. Consegnata, abbiamo provato a spiegargli cosa è successo e abbiamo specificato che la colpa era del Citta. E ora 10-15 minuti che esaminano la macchina fotografica e ci dicono qual è il problema. Speriamoli bene. Onestamente non abbiamo molte opzioni perché questo è l'unico autorizzato che ripara la Canon. Noi ne abbiamo sentiti diversi e tutti ci hanno rimandato a questo. La Costa Rica è l'unico paese dove abbiamo tanto tempo e quindi abbiamo modo anche di lasciarcela e poter aspettare. E quindi credo proprio che qualunque sia il costo dovremmo aggiustarla qui. Non possiamo andare avanti con il metodo bluetooth perché è troppo troppo complicato e molte volte è anche difficile utilizzarla in maniera appropriata. La Canon è in riparazione. È dal dottore. Speriamo che la riescano a riparare. Ci hanno detto che ci fanno sapere tra tre giorni e speriamo con buone notizie. Ok amiciacci, finalmente abbiamo portato ad aggiustare la Canon e quindi di conseguenza abbiamo fatto contento anche il Citta e ora pensiamo a far felice anche la Flecchia. E quindi andiamo a comprare tutta l'attrezzatura per sistemare il van. Amiciacci, è il grande giorno. Dobbiamo rivoluzionare il van. Siamo tratti davanti a una parecchia di colori e la scelta è difficilissima. Quale sarà il colore che hai scelto? Abbiamo scelto il colore giusto? Che rossa! Ovviamente non essendo a casa non abbiamo tutti gli attrezzi e quindi dobbiamo anche comprare gli accessori necessari per verniciare. Dovremmo comprare pennelli, compriamo un rullo e non verniciamo soltanto il van. Dobbiamo anche fare diverse modifiche, aggiungere cose, togliere cose, insomma dobbiamo cambiare un pochettino il design del nostro van e quindi dovremmo anche comprare altri attrezzi. Poi vedete perché in realtà stiamo improvvisando un pochettino tutto e non lo sappiamo nemmeno noi. Però ci sono tante novità. Sarà un lavoro principalmente sull'estetica per renderlo il più possibile piacevole agli occhi della flecchia. Voglio insistere su questa cosa perché tutto per la flecchia. Che se fosse per me arriverebbe in argentina così com'è. Uomini, fate felice le vostre donne. I nostri lavori iniziano da qui. Abbiamo trovato un parcheggio in un ristorante che ci ha messo a disposizione tutto, anche internet. Quindi abbiamo una zona tranquilla dove poter lavorare perché è vicino a un prato. Inizieremo questa improvvisazione perché, come abbiamo già detto, non sappiamo esattamente cosa vogliamo. Ma siamo sicuri che l'ispirazione verrà lungo la strada. Stasera diluvio universale qui in Costa Rica perché il Città si è convinto. E' più convinto di me in questo momento. Partiamo dalle cose assolutamente inutili e superficiali. Partiamo dal tappetino che andrà all'ingresso del van. Il tappetino nuovo che va tagliato. Va tagliato. Quindi ho preso le misure. E mi ha detto che più o meno il preventivo intorno ai... Un'ora. Un'ora. Un'ora di lavoro per fare il tappetino. Sì perché non abbiamo gli attrezzi. Devo tagliare col coltello della cucina. Ci abbiamo tagliato l'ananas un minuto qua. Bene. Però c'è da dire che la cassetta attrezzi ci è stata rubata. Eh sì. Diciamolo. E' un lavoro delicato. Serve comunque l'attenzione di due persone. La bellezza sta nelle cose superficiali. Certo. Come questo tappetino. Non ci abbiamo tre pareti. Ci abbiamo i led che non funzionano. Ci abbiamo, no so, mille problemi. Da cosa abbiamo iniziato al tappetino dei piedi. Che giusto perché i piedi sono la parte più importante del corpo. Giusto. Che poi questi piedi. Nemmeno i piedi perché andrà solo il garrafone d'acqua sopra. Quindi serve solo per il garrafone. Se è comodo lui siamo comodi anche noi. Tra un lavoro e l'altro bisogna reintegrare. Nostro giro petto. No. Un pezzo tagliato del tappetino. E uno del dito. Cosa fai? Lo stiamo facendo davvero? Dopo tre anni? Lo stiamo facendo davvero? Chi lo sai? Che metodi per aprire la latta. Siamo proprio vagabondi, amiciacci. La schiumarola come la chiamai città. La schiumarola. La schiumarola per prendere la pasta. L'igiene prima di tutto. Non ci abbiamo nulla, ma ci abbiamo tante idee. Ma tutto. Abbiamo tutto. L'importante è quello, amiciacci. Iniziamo la vita e avere le idee. E la voglia di fare. Questa è una grossa rivelazione, amiciacci. Vi abbiamo svelato un colore, uno dei tre. Ne abbiamo scelti tre questa volta perché vogliamo rivoluzionare il van nella maniera più incredibile. Iniziamo. Che ne pensate di questo cambionetto? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti. Quindi, se non vi piace, questo è. C'è poco da dire. C'è poco da dire. Però se non vi piace, sapete con chi prendervela. Non è vero. Abbiamo scelto tutti e due. No, abbiamo scelto insieme. Ci piace. Ci piace perché è un mix tra un azzurro e verde. Quindi, se lo vedi con una luce può sembrare verde e se lo vedi con un'altra può sembrare azzurro. L'abbiamo scelto proprio di proposito perché ci piacevano sia il verde che l'azzurro. Il van è blu e abbiamo voluto dare un tocco diverso, anche di freschezza, anche di freschezza rispetto ai tre anni di bianco che ormai era diventato anche giallo. Gli armadi principali superiori sono stati fatti con quel tipo di colore. Ora dobbiamo togliere tutta l'edera perché vogliamo fare tutte le canaline superiori dello stesso colore degli armadietti. Perché poi i muri saranno di un altro colore ancora, più chiaro. Ci siamo. Sono passati diversi giorni. Come vedete il van è ancora in procinto di essere migliorato. Ce la prenderemo con comodo. Non è che ci mettiamo una settimana chiusi a fare questo. Il motivo reale è che comunque vogliamo nel frattempo esplorare il paese e dobbiamo fare anche tante commissioni, tra cui oggi tornare a San José per prendere la telecamera. Ci hanno contattato dicendo che sono riusciti ad aggiustarla. Era lo schermo fortunatamente, quindi non hanno dovuto mandarla negli Stati Uniti. Buon per noi. Cioè è costato, ma chi se ne frega. E adesso lasciamo il ristorante dove siamo stati tra virgolette ospiti. E per ringraziarli, perché comunque ci hanno fatto stare gratuitamente, andremo a mangiare nel loro ristorante. Un ristorante un pochettino chic, quindi ve lo facciamo anche vedere. Come vedete è un ristorante piuttosto di livello. È un ristorante in, ci fanno tante cerimonie. È ben tenuto, curatissimo nei minimi dettagli. Lì c'è un giardino spettacolare, tutto pulito e organizzato in maniera impeccabile. Quindi sicuramente non è il locale che fa per noi, nel senso noi siamo vagabondi. Però, per ringraziarli di averci fatto dormire gratuitamente, questo è altro. Ecco, non è ovviamente una trattoria, quindi i prezzi sono anche un po' più alti, ma non interessa, noi ci prendiamo ovviamente una pizza, perché poi ogni volta che usciamo a mangiare fuori e c'è la possibilità di prendere la pizza, scegliamo sempre quella, perché è il piatto che ci piace di più italiano e anche quello che ci manca di più onestamente. Buon appetito amiciaggi! Vi dà il buon appetito anche lui! Ho mangiato la pizza e era il minimo che potevamo fare per ringraziarli. Sono di molto gentili, a sinistra, città, e ci hanno anche fatto riempire la cisterna d'acqua, di acqua potabile, quindi veramente grazie e... E prego! E prego! Comunque mi sono dimenticata di dirvi che finalmente stiamo andando a ritirare la nostra bambina, e così il Citta finalmente torna felice e riesce a usare la macchina fotografica in maniera decente. Ce l'abbiamo fatta! Quattro mesi con la macchina fotografica rotta! Amiciacci, questo è il momento che stavamo aspettando tutti. È vero che lo state aspettando tutti voi insieme a me, non solo io. È vero o non è vero? Sììì! Funziona! Funziona! Che bella, amiciacci! Che bello, che emozione! Le cose tornano al loro posto. Ci siamo allontanati dalla città di San José per venire in una cittadina molto tranquilla chiamata Orosi C'è una piccola chiesa, c'è un bel campo e la cosa positiva di questa zona e di quelle che scopriremo oggi è che sono ad elevate altitudini e quindi è un Costa Rica fresco e ci piace, ci piace perché abbiamo sofferto parecchio il caldo in questi giorni Poi un'altra cosa positiva è che abbiamo rivisto i nostri amici svizzeri, li abbiamo conosciuti in Guatemala, li abbiamo rivisti in Nicaragua e ora li abbiamo rivisti di nuovo in Costa Rica e oggi andremo a farci un pezzo insieme Si parte, partiti, città Ci siamo, ci siamo, siamo amiciati Siamo Si sale lenti, si sale lenti Però piano piano, non manca tanto al punto che vogliamo raggiungere Poi scoprite quello che dobbiamo fare perché voi dovete sapere che io in Costa Rica ho scoperto di avere un'altra passione Ma non ve lo dico adesso qual è Eh ve la dico io dopo Ci stiamo iniziando anche ad abituare a questa stagione, cioè la stagione delle piogge Perché qui in Costa Rica da maggio fino a novembre piove Però da quello che abbiamo iniziato a conoscere, a capire, alla mattina è bello e poi verso mezzogiorno e mezza inizia a piovere Quindi vuol dire che ogni mattina dobbiamo puntarci la sveglia prestissimo per fare le cose e per godercele senza la pioggia Sistemati amici oggi Con la pioggia Con la pioggia Vabbè oggi direi che siamo anche in ottima compagnia Quindi Poi se la temperatura si abbassa perché ci hanno detto che qua fa davvero freddo Arriva a toccare i 5 gradi la notte Abbiamo preso la cioccolata calda Quindi possiamo anche stare in compagnia con una bella cioccolata calda Ci si può svegliare 5 di mattina per andare a vedere un uccello? Sì Tutto è possibile Amici oggi solitamente quando ci svegliamo alle 5 o comunque presto per andare a fare delle escursioni o qualcosa del genere io sono stra rinc***a e voi lo sapete Ma oggi a tutta Mi sono svegliata alle 2 stanotte per me potevo pure alzarmi subito così La cosa assurda di questa avventura è che abbiamo coinvolto anche i nostri amici Anche loro le sono svegliate le 5 Tutti per andare a bere un uccello Lo fareste mai? Scrivetecelo nei commenti Noi sì, noi sì, io sì, sono matto e qui in Costa Rica come ho già detto ho scoperto di avere questa passione per gli uccelli Amiciacci, mi devo preoccupare? Ecco non so esprimerla questa cosa Non esprimere Non lo esprimo perché fa un po' ridere Esatto Vi faccio vedere dove abbiamo dormito Qui Gli amici nostri Abbiamo dormito proprio di fronte al parco del Kezzales Però nonostante il nome È difficilissimo vedere Kezzales E poi costa 10 euro per entrare nel parco È difficilissimo perché la vegetazione è fitta E quindi ci sono poche possibilità di vederli Invece a San Gerardo de Dota La città qui di fianco Gli alberi sono molto più aperti Ci sono gli avocado selvaggi Che sono il cibo preferito di questi uccelli E quindi è molto molto più facile Ed è lì dove andiamo Sono solo 10 chilometri da qui Ci siamo amiciacci Il vetro si è quasi spannato Il sole come vedete sta sorgendo Possiamo iniziare ad andare Dobbiamo andare lentamente Perché la strada è curvosa Ed è totalmente in discesa E poi in salita Ma come dice il città giustamente Si va anche piano per un semplice motivo Bisogna anche guardarsi intorno Perché i Kezzales non sono soltanto In quel punto dove è segnato Essendo una foresta nebulosa Possono essere ovunque Anche lungo la strada I nostri avvistatori si sono fermati Perché da una parte è anche piacevole E anche piacevole camminare Vedere il panorama E dall'altra abbiamo iniziato A vedere dei gruppi con le guide Lungo la strada Che guardano a destra e a sinistra E quindi insomma È evidente che sono qua Abbiamo già avvistato Una femmina di Kezzale Come potete vedere Ci sono altri gruppi Che si sono svegliati Prestissimo come noi Perché le chance di poterli vedere Sono dalla mattina presto Dalle 5 fino alle 7 È lontana Sta nascosta Difficilissima da vedere Però i colori sono stupendi Adesso stiamo trovando il maschio Perché poi è il maschio Che è molto più bello E simbolico Perché ha questa coda Questa piuma lunghissima Di un metro quasi Azzurra e verde Stupenda Il problema è che non è facile vederli Perché si mimetizzano benissimo Guardate la femmina Come stava nascosta negli alberi E senza la guida Che la stava già osservando Sarebbe stato impossibile vederla Eh ragazzi Il città non è soddisfatto Non è andata come speravo Speravo di vederli Un po' più da vicino E di sfoggiare La canona appena aggiustata Però va bene così Ho visto un colibri Aspetta Però comunque Noi ci riputiamo Fortunatissimi Perché In meno di un mese In Costa Rica Ne abbiamo già visti Sette di Kezales Quindi ragazzi C'è che non ne vede nemmeno uno Eh Siamo stati fortunati Onestamente Abbastanza comodo Mangiato la pizza Era il minimo Che potevamo fare Per ringraziarli Sono stati molto gentili Ma non riesco a parlare Che troppo bella che c'hai Cioè No bro Dili qua troppo parole E la troppo parola La pizza C'è il buffering Tipo le live Perché si inghiola Caricamento Cioè Non riesco a parlare Cioè Amazing Amazing